Chiaramente chiedi perdono a tutti per me, a tutti coloro che hanno magari pensato che gli avessi fatto un torto. Chiedi perdono. Questo era l'unico cruccio, l'unica mai avrebbe lasciato questo mondo. Lui che ha subito una montagna di male non ha avuto parole nei confronti, anzi, ha chiesto perdono a tutti. Ecco, mi auguro che per ciascuno di noi possa avvenire così questo passaggio, prima della Pasqua, quella vera, quando i nostri occhi si apriranno, quando anche noi chiuderemo la partita dei nostri conti, no? Con questo mondo, con le persone che abbiamo incontrato, con coloro che forse già non esistono più, ma anche con coloro che puntualmente non ci fanno mancare, no? Quella ferita, quel dolore. Ognuno di noi sa, ognuno di noi conosce. Ecco, salire sulla croce talvolta significa esattamente questo, accettare le ferite, i tradimenti che quotidianamente ci raggiungono e ci fanno veramente stare male, ci fanno morire, anche se siamo vivi, ma è come Padre Pio nella sua vita parla di una ferita mortale. Sono vivo, ma è come se fossi già morto, no? Per quello che ha vissuto. Ecco, qualcosa di simile, che il Signore, ripeto, ci dia la possibilità di trasformare questa montagna di male che talvolta riceviamo in benedizione. E questo lo possiamo fare solo deponendo ai Suoi piedi, a Lui, che Lui solo può trasformare il male più brutto nel bene più grande. E poi, ecco, ripeto, che Lui possa darci la possibilità comunque di chiedere perdono a tutte le persone che ci hanno fatto del male. Grazie.